Sono Emilio Del Mastro, rappresento Pronatura Torino, che ha una lunga tradizione di collaborazione con la provincia prima, con la città metropolitana oggi e negli anni in cui è stata costituita. Io so che i campi di cui ci stiamo occupando sono tanti ed è difficile numerarli in poco tempo, però per quanto riguarda le collaborazioni con la città metropolitana mi fa piacere ricordare che abbiamo recuperato dei sentieri sulla collina morenica fra Rivoli, Avigliana fino alla Sacra di San Michele. E quindi questo è un modo per valorizzare il territorio, dare vita a un turismo leggero, non impattante, ma che sta veramente crescendo giorno dopo giorno. E questo turismo è la conseguenza del ricupero dei sentieri della collina, anch'essi partiti con l'allora provincia di Torino, che fu veramente fondamentale per darci la possibilità di lavorare con i nostri volontari e di rendere agibili i sentieri che circondano tutta Torino. Grazie. 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 Grazie.